Ultimi acquisti per allestire il tradizionale cenone della vigilia e il pranzo di Natale. Supermercati presi letteralmente d'assalto sin dal mattino, con la gente in fila per acquistare il pesce, che sarà il protagonista indiscusso del cenone di questa sera. Una cena dunque che sarà a base di prodotti ittici, baccalà preparato in diverse varianti, arracanato, al sugo, lessato e condito con olio, prezzemolo e limone, e poi l'anguilla, ma non mancano i primi, con i tradizionali spaghetti con le vongole o il risotto e i frutti di mare. Sulle tavole dei molisani non mancherà la verdura, in particolare quella campestre, saltata in padella con aglio, olio e peperoncino, ma ci sarà spazio anche per la pizza in minestra, un piatto della tradizione molisana, fatta da pizza di granone e verdura. E dopo una serata trascorsa a tavola fino a tardi, si replica a Natale con il tradizionale pranzo, e in questo caso il menù prevede zuppa di cardi con polpettine di carne, lasagne o cannelloni come primi e carne a volontà con agnello in particolare. Non mancheranno i dolci tipici del Molise, i calcioni ripieni di marmellata, le screppelle e tanta frutta secca o fresca a seconda dei gusti, il tutto innaffiato da ottimo vino locale. Secondo le stime di Coldiretti, ogni famiglia quest'anno spenderà all'incirca 90 euro, con un occhio sempre attento al portafogli, limitando al minimo gli sprechi.